Online vi sono molte guide su OBS Studio per Windows, ma poche risorse per quanto riguarda macOS e ancora meno relativa al nuovo processore Apple. Finalmente la versione 28 di OBS supporta i nuovi processori Apple. Trovo il plugin Animated LoverTurt molto utile e la uso per le mie dirette. Per questa ragione ho deciso di fare questo tutorial per spiegare come installarlo e farlo funzionare correttamente su macOS. Scarichiamo OBS Studio dal sito ufficiale. Troverete il link in descrizione. La procedura è la stessa sia per processore Intel che per quello silicon. Va solo scaricata la versione corretta. In questo tutorial lavoreremo con la versione per Apple Silicon. Ora scarichiamo il plugin Animated LoverTurt with Dockable Control Panel. Troverete il link in descrizione. Come si può notare sul sito è chiaramente specificato che OBS per macOS non supporti pannelli browser ma che questi funzionino esclusivamente in Windows. Io sto usando il plugin da tempo per le mie dirette senza notare alcun problema. Procediamo a scaricare il plugin con il link in alto a destra. Per installare OBS aprire il file OBS Studio 2801 macOS ARM64 e trascinare l'icona OBS su Application. Scompattiamo il file zip del plugin così da vedere tutti i file in esso contenuti. Perché possa funzionare correttamente dobbiamo copiare il plugin e la cartella corretta. Nel Finder apriamo una finestra su Applicazioni, clicchiamo con il tasto destro su OBS App e scegliamo Mostra contenuto pacchetto. Espandiamo la cartella Plugin e copiamo la cartella Animated LoverTurt al suo interno. Dobbiamo recuperare i link per poter configurare OBS. Apriamo la cartella LoverTurt e clicchiamo due volte su Control Panel HTML così da aprire una finestra Browser che ci mostri il link. Parcheggiamo il browser ed eseguiamo lo stesso sul file BrowserSource. Non chiudere le finestre, ci serviranno dopo. Lanciamo OBS Studio e selezioniamo dal menu Pannelli Pannelli Browser Personalizzati. Diamo un nome al pannello, nel mio caso LoverTurt3rd. Nel campo Urlo dobbiamo inserire il link che abbiamo lasciato nel browser parcheggiato. Apriamo il browser e copiamo il link relativo a Control Panel HTML. Parcheggiamo il browser e incolliamo nella finestra Pannelli Browser Personalizzati. Cliccare su Applica e poi su Chiudi. Ora si presenta la finestra LowerTurt che può essere posizionata ove più ci piace nel doc, nel mio caso a sinistra. Dal menu Strumenti selezioniamo Script. Si aprirà una finestra. Clicchiamo sul segno più per aggiungere uno script. Nella finestra di ricerca selezionare Plugins. Espandere la cartella Animate dell'Overturt ed espandere l'Overturt. Selezionare il file LoverTurt OK e cliccare Open. Dopodiché chiudi. Selezioniamo Impostazioni su OBS e poi Scorciatoie. Scorrere verso il basso fino a trovare le scorciatoie per l'Overturt 1, 2, 3 e 4. Inserire le scorciatoie desiderate. Nel mio caso Shift 1, 2, 3 e 4. Una volta terminato, cliccare su OK. Ora creiamo una scena dove visualizzare i nostri LoverTurt. Clicchiamo sul più nella sezione fonti e selezioniamo il browser. Diamogli un nome e poi clicchiamo su OK. Nel campo URL dobbiamo inserire il link corretto. Apriamo il browser parcheggiato. Copiamo il link della pagina browser source HTML, parcheggiamo il browser e incolliamo quello che abbiamo copiato. Impostiamo la larghezza della finestra, nel mio caso 1920. Cancelliamo il contenuto della finestra CSS personalizzato. Selezioniamo Chiudi la fonte quando non è visibile. Ricarica la pagina del browser e confermiamo con OK. Spostiamo la finestra del browser in basso, o comunque dove vogliamo che appaiono i LoverTurt. Ora, se nel pannello di controllo LoverTurt accendiamo o spegniamo il piccolo interruttore sulla destra di ogni blocco, vedremo apparire e scomparire il LoverTurt che stiamo selezionando. Attenzione, se i campi sono vuoti non apparirà nulla e il blocco verrà contornato di rosso. Perché ognuno dei blocchi possa funzionare correttamente, l'interruttore nella sezione Main Setting deve essere attivo. Al contrario, apparirà un riquadro rosso per segnalare l'errore. Cliccare con il tasto destro su obs.app, scegliere Mostra contenuto pacchetto, espandere Animate LoverTurt e poi Logos. Copiare al suo interno le nuove icone con lo stesso nome e formato. Questo è l'unico modo per cambiare le icone da visualizzare. Su Mac OS la modifica diretta non funziona correttamente, mentre funziona perfettamente con Windows. Ecco un esempio delle icone che ho caricato. Per applicare le modifiche, chiudiamo e riepriamo OBS Studio. Ora i LoverTurt visualizzeranno correttamente tutte le icone disponibili. Per le impostazioni avanzate dei singoli blocchi, vi consiglio di guardare uno delle centinaia di tutorial disponibili su YouTube. Le impostazioni a questo punto sono le stesse, sia per Windows che per Mac OS.